La città di Monte Granaro in provincia di Fermo è stata scossa da una tragedia che ha lasciato l'intera comunità sgomente, incredula e meno di due giorni una sorella e un fratello sono deceduti a causa di un malore improvviso che si è rivelato fatale. Appena due giorni fa la comunità si era unita nel cordoglio per la scomparsa di Morena Medori, 63 anni, moglie di un ex medico di famiglia Paolo Regneri, madre di due figli e figura rispettata e amata in città. Morena era conosciuta come membro del consiglio comunale. Ieri mattina un'altra notizia tragica ha colpito Monte Granaro, l'improvviso decesso forse dovuto a un infarto di Geremia Medori, 61 anni, fratello di Morena. Questo evento ha lasciato la città ancora una volta senza parole con un senso di impotenza e rassegnazione. Geremia era un uomo attivo nella sua vita, lavorava nel settore dei Pellami, amava le escursioni in mountain bike ed era stato uno dei fondatori del gruppo ciclistico gli Smatati. Ma la sua vera passione, come per molti in Monte Granarese, era il basket, sport, che ha praticato finché è stato possibile diventando poi un appassionato sostenitore. Questa passione era condivisa con la sua famiglia, sua moglie Maria e le loro quattro amate figlie, Lucrezia, Ludovica, Lavinia e Laudonia. Inoltre era legato da un profondo affetto al fratello Lino.